Taglio del nastro per la prima sede della protezione civile a Montorio Alvomano intitolata la memoria del volontario Mirko Di Lorenzo scomparso prematuramente e aperta grazie alla collaborazione con il gruppo volontari della CIVES di Teramo. Il distaccamento che completa la rete provinciale di protezione civile sarà gestito da volontari del posto che hanno appena concluso il corso di addestramento. Circo 80 ragazzi, giovani e meno giovani, che hanno concluso il corso e che sicuramente rappresenteranno un punto di riferimento per le attività che verranno svolte sul territorio dalla protezione civile. Un ringraziamento in particolare alla famiglia di Mirko a cui abbiamo intitolato la sede grazie anche al suggerimento e alla volontà espressa dalla CIVES provinciale. I volontari andranno ad affiancare quelli delle altre associazioni presenti con un sistema che servirà a dare supporto ancora più importante al centro operativo comunale. Il nostro territorio è un territorio che già soffre un disagio che è quello proprio della geomorfologia che lo costituisce. Ci sono spesso eventi di diverso genere. Adesso con la protezione civile CIVES di Teramo, quindi con il distaccamento aperto a Montorio, insieme a tutte le altre associazioni che da anni operano in modo indispensabile sul nostro territorio, oggi abbiamo completato quello che è il sistema globale di protezione civile a Montorio. Per la CIVES è un momento importante. Già operiamo sull'intero territorio della provincia di Teramo e oggi siamo pronti proprio per operare alle porte del parco. Un punto importante, una crescita per la nostra associazione.